Guardate chi c'è, chi c'è? Machiavelli Ciao Machiavelli Ecco, questo è il mio gatto che ha circa 5 anni Vedete, è un maschio si vede palesemente Ehm Ora ti daremo da mangiare, Machiavelli Ehi Anzi, guardate cosa fa Machiavelli Vabbè, lui viene di qua Perché solitamente il cibo Lo teniamo qua dentro Però come vedete Qua ci sono cocchette per il cane C'era anche cibo per galline Però per lui Di solito non c'è mai niente, poverino Infatti si arrangia con Avanzi Oppure Ogni tanto, tipo io ho iniziato a darle Un po' di Un po' di Qua Ho iniziato a darle un po' di Di cibo per gatti Ora vi farò vedere Ecco, vedete Io l'ho preso Kit e Kat Che mi sembra giusto Perché comunque sono 100 grammi E non voglio che Abbia Che ci siano sprechi Vediamo Facciamoli annusare Sembra che gli piaccia Ora le la darò Ecco, vedete Una porzione giusta per un gatto Con pezzettini anche piccoli Ora le la daremo Machiavelli Eccolo Guardate che bello Che è mentre mangia Questo gatto, poverino Vive un po' così Nutrendosi di quel che trova Quindi oggi Dato che è Natale Come regalo Ho deciso di dargli Questi bocconcini buonissimi Al salmone Vedete Ormai sta concludendo Il suo pasto Ma se lo sta gustando Fino all'ultimo Proprio perché Potrebbe essere Il suo ultimo pasto No, in realtà Viene nutrito A volte con croccantini Avanzi Però Io non sono sempre qua Non so se riceve Il giusto cibo Poveretto Guardate Machiavelli Ha finito tutto il cibo Bello Ora i momenti È il momento dei saluti Allora Innanzitutto Vi volevo ringraziare Per il raggiungimento Dei 70 iscritti Sono davvero felice Un bellissimo regalo Di Natale E appunto Proprio per Natale Vi auguro di passare Un bellissimo Natale Con le persone che amate Insomma E con la vostra famiglia E Lasciate un like Per questo gatto Semirandaggio Diciamo Guardate Guardate Vi saluta Ciao ragazzi Machiavelli Ciao Ciao